Esteban, una partita sbloccata da un tuo colpo di testa, arrivato proprio nel momento più delicato della gara, perché andare negli spogliatoi in vantaggio di un gol è stato fondamentale. Sì, è stato fondamentale anche perché si è visto che non abbiamo fatto un ottimo primo tempo, penso i primi 25-30 minuti siamo stati una squadra un po' addormentata. Ma per fortuna la squadra è riuscita a non pecare gol, perché in queste partite noi di solito sempre prendiamo un gol, ma la squadra ha saputo comportare e poi il gol è arrivato ovviamente per fortuna alla fine del primo tempo. È una squadra che sta a soffrire e che punge al momento opportuno. Oggi qualche sbavatura di troppo in mezzo al campo? Sicuramente abbiamo fatto degli errori in tutte le linee, non solo al centrocampo, in tutte le linee. È vero, ma la squadra ha saputo soffrire. Questa partita l'ha letto, penso, perfettamente perché, come ti ho detto prima, queste partite di solito le prendiamo un gol. Oggi siamo stati, penso, bravi, anche un po' fortunati, ovviamente lo devo dire, però siamo stati anche bravi. Per Esteban Giambuzzi il campionato diventa sempre più bello e produttivo. Altri due gol che si aggiungono a quelli già realizzati in questo torneo, un torneo che si sta regalando grosse soddisfazioni anche a livello individuale. Sì, sono contentissimo, veramente, ma io voglio sempre vincere, non mi importa veramente fare gol. Poi, se il gol viene, ovviamente è una cosa in più, ma io voglio che l'Andrea vinca, se è possibile, tutte le partite. Dove può arrivare questa Fidelis? Vediamo, non sono io a dire dove può arrivare, ma vediamo partita a partita, mancano adesso sedi finali. Prendiamo una partita alla volta e vediamo dove si arriva a fine campionata. La prossima in casa contro il Gallipoli che vi ricorda un momento difficile di questa stagione. Sì, veramente sì, perché giustamente quella partita del Girono è andata dove abbiamo sofferto e abbiamo peccato tanto, ma la dobbiamo prendere come una finale, come se fosse l'ultima partita del campionato e la dobbiamo vincere a tutti i costi.